Avanti ad agio, il Pescara prosegue la sua marcia di avvicinamento alla nuova stagione. Ieri a Boario, nella terza uscita stagionale, i Biancazzurri hanno superato per 3-1 la formazione di Lega Pro del Lumezzane. Al di là della vittoria, che negli amichevoli non conta, resta la buona impressione destata dalla squadra, che nonostante i grossi carichi di lavoro, ha risposto bene al cospetto di un avversario di valore. In evidenza, Maniero ha segno con una doppietta. L'attaccante Biancazzurri potrebbe però lasciare Pescara, a meno che non vengano risolti problemi con la società sull'adeguamento del contratto. Sicuramente ad oggi il giocatore campano è tra più in forma e non solo per quel che concerne il reparto avanzato. Intanto sul fronte mercato, quella appena iniziata potrebbe essere la settimana dell'arrivo in Biancazzurri di Marcel Buchel. Il centrocampista richiesto da Baroni, che l'ha avuto l'anno scorso a Lanciano, piace anche a Cesena, Perugia e Spezia, ma anche estimatori all'estero. Nelle prossime ore ci saranno poi contatti con il Novara per l'attaccante Flavio Lazzari. Per il terzino zampano del Verona bisognerà attendere la fine del ritiro degli scaligeri. Per quanto riguarda invece Marco Capuano, il difensore resta sul mercato. Cagliari e Cordoba hanno virato su altri giocatori, ma l'ex nazionale Under 21 piace al Genoa, che deve risolvere anche con il Pescara la questione Riccardo Improta. Il giocatore sarebbe dovuto venire in Abruzzo nell'ambito del passaggio di Antonino Ragusa ai Liguri, ma il suo infortunio ha bloccato la chiusura della trattativa. Improta però potrebbe comunque arrivare, anche se non disponibile, prima di fine ottobre. Si continua a lavorare anche al passaggio di Biarnason all'Empoli, ma la trattativa non si presenta agevole. Intanto il Pescara ha lasciato in giornata a Buario Terme. Ai Biancazzuri sono stati concessi tre giorni di riposo. Si tornerà a lavorare il 1 agosto ad Atri con il quartier generale all'Hotel du Park. E oggi è iniziata anche l'avventura del Pescara Primavera. I Bebi a disposizione di Massimo Oddo svolgeranno la preparazione agli ordini del neotecnico che ha preso il posto di Federico Giampaolo. Al fianco di Oddo lavoreranno il vice allenatore Davide Ruscitti e il collaboratore tecnico Dario Di Giannatale. Oddo verrà presentato domani alle 15 nella sede dell'Inter Service Leasing.